La bandiera blu è un vessillo che non viene regalato, va conquistato anno dopo anno. Quest'anno siamo molto soddisfatti e contenti perché oltre ad avere avuto anche quest'anno il riconoscimento, si è steso anche qui nella zona del Lido. C'è anche il tratto di spiaggia del Lido che da quest'anno si freggia della bandiera blu. Il vessillo è stato consegnato alla città dalla FE, la Fondazione per l'Educazione Ambientale, e sabato scorso, alla presenza delle autorità comunali e regionali, militari e cittadini, è stata issata, come da tradizione, da un bagnino della zona nei tre nuovi pennoni installati a fianco della cavea del Lido. Nelle Marche sono 18 le spiagge dove sventola la bandiera blu, da Gabice Mare fino a San Benedetto del Tronto. Questo è un riconoscimento importante ma premia anche gli impegni, gli sforzi e gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni. Non dimentichiamo che la bandiera blu è un riconoscimento a tutto campo e quindi la bandiera blu significa anche qualità, per cui è anche un'occasione per invitare tutti coloro che vogliono trascorrere le loro vacanze nella nostra città, che sicuramente troveranno qualità, servizi ed una bella città. Il ricevimento della bandiera blu è un riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L'ottenimento della bandiera blu è sicuramente molto complicato, comporta un lavoro di comunità, è un disciplinare molto difficile che prevede ovviamente lavori per la qualità delle acque, lavori per servizi alla balneazione, lavori riguardanti la sicurezza alla balneazione, quindi per far sì che le persone che arrivano in visita nella nostra città trovano una qualità della vita e possano essere sicuri nella zona mare ma anche in città. Quindi un'assoluta qualità della proposta e tra l'altro quest'anno è una bella giornata per Fano perché insieme a tutte le persone che lavorano a questo progetto abbiamo insato la bandiera blu e quest'anno l'abbiamo insata qui al Lido appunto, perché quest'anno anche le acque del Lido che si sono mostrate in questi anni sempre eccellenti ma che ci permettono maggior sicurezza grazie alla vasca fatta all'Arzilla ci permettono di avere tranquillità e quindi di certificare con il vessillo di bandiera blu anche la spiaggia del Lido. Un motivo in più per turisti e per i cittadini di vedere questa zona del Lido come una zona di grande qualità come tra l'altro le altre spiagge bandiera blu.